Per i collezionisti, delle grandi salite nelle Alpi, il Monte Bianco è un ragguardevole baluardo. Qui sono concentrate tutte le più belle e complicate salite delle Alpi e qui, secondo me, si trova la più bella di tutte, la regina delle regine, la cresta di Peuterey passando per la nord delle Guyblanche. Grazie a tutti. Grazie a tutti.